Generale Robusto, la cittadinanza onoraria ha anche l'abbraccio di Pieve di Teco per lei e il suo appuntato? Sì, è qualcosa di inaspettato. Sono passati trascorsi 33 anni da quel giorno, ma da quei giorni che hanno caratterizzato una pagina indimenticabile della mia vita. Io sono stato comandante di compagnia per sei anni. L'episodio che oggi mi fa ricordare lo definì come qualcosa di molto giusto. Avevo semplicemente fatto il mio dovere. Quindi questo riconoscimento mi onora e lo onorerò sempre. La città di Pieve di Teco è sempre stata una città con una grande identità. Quel giorno ricordo quando tutta la gente era scesa in piazza, c'era il paese. E chissà cosa avrebbe voluto. Sicuramente avrebbe voluto che venisse restituita quella ragazza. E quando poi è stato, avrebbe voluto linciare quella persona che aveva commesso quel gesto molto insano. Forse perché c'era questo legame, forse perché era giusto che lo si facesse comunque. Di fatto ricordo più che mai che ci si sentì onorati di aver agito in quel modo. E quel modo era il modo di tutti i giorni. Tanti altri episodi hanno caratterizzato la nostra vita qui, in tutto il territorio dell'imperiese. Sempre c'è stato un atteggiamento di riconoscenza. Ecco, la riconoscenza non è scontata. Sa di umiltà, sa di rispetto per l'altro. E quindi io sono grato, a distanza di 33 anni, ancora oggi, di ritrovare quei valori. Mi onora il fatto di aver creduto in essi. Mi dà ancora più forza per continuare a crederci. Con il sindaco di Piovediteco, Alessandro Alessandri, una bella giornata. Queste due cittadinanze onorarie meritate e devono servire, come ha detto lei, da esempio. Una giornata molto, molto emozionante, devo dire. In questo caso, oltre all'emozione, è anche il dovere proprio di portare questa testimonianza nei confronti di chi ogni giorno lavora e dedica la vita proprio alla nostra sicurezza, alla sicurezza di tutti i cittadini. In questo caso abbiamo avuto proprio una totale e veramente entusiasta presenza, entusiastica presenza di tutti, anche i carabinieri in congedo, per manifestare quanto fosse forte il rapporto di questa squadra che guidava allora il generale Robusto. Noi vogliamo lasciare questo ricordo, come ho detto nel mio intervento, di poter testimoniare proprio l'esempio che è stato dato da queste persone, perché poi le cose si dimenticano facilmente, e ogni tanto è bene ricordarle. Oltretutto le cose ogni tanto anche si trasformano, nel senso che da una volta all'altra magari ci si aggiungono, ci si tolgono delle cose, no? Però noi invece vogliamo tornare all'origine dei fatti e testimoniare questi fatti. Siamo con il comandante regionale Nardone, una bella festa per questa cittadinanza onoraria al collega generale Robusto. Sicuramente è un momento molto importante, e da sottolineare la sensibilità che ha avuto il comune di Pieve di Teco per riconoscere un comportamento sicuramente valoroso di due colleghi, anche se è un fatto datato di tanti anni fa. Ecco, anche la regione ha voluto far sentire la propria presenza oggi in questa giornata di festa? Beh, non solo la regione, rappresenta anche il comandante interregionale, che è anche il vice comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, quindi proprio a sottolineare l'importanza di un momento come questo. come questo.